La Chiesa non è un potere parallelo né alternativo al governo, vogliamo solo farci voce della gente. Il segretario generale della CEI affronta i giornalisti al termine del Consiglio Permanente e racconta una Chiesa prossima alle persone che ha raccolto e continua a raccogliere lacrime e disperazione nei giorni drammatici del dopo terremoto e dell'emergenza neve. I Vescovi italiani richiamano fortemente la politica alle proprie responsabilità e non solo sui ritardi dei decreti attuativi in favore della famiglia. Sul tema immigrazione insistono sul riconoscimento del diritto di cittadinanza ai minori nati o formati nel nostro paese, i us soli e i us culture. Ripartire dalla legalità è un atto di intelligenza politica che non va confuso con la proposta di allargare la irregolarità e creare insicurezza per i migranti e per il territorio. Pai la stretta attualità politica, nessuna presa di posizione sulla possibilità di elezioni anticipate, ma, avverte Galentino, non devono essere un diversivo, piuttosto rispondano ai bisogni della gente. Idee chiare anche sulla recente sentenza della Corte Costituzionale. Non è un fatto normale che la magistratura detti tempi e modi all'amministrazione. Quando deve intervenire la magistratura per dire se una legge va bene o non va bene e quando deve dire che non va bene, vuol dire che chi ha fatto quella legge con molta probabilità non ha fatto bene il suo mestiere. Sulla discussione intorno alla legge e sul fine vita, il segretario della CEI cita il lavoro fatto in commissione parlamentare da Mario Marazziti e sottolinea la necessità di evitare che tutto il potere sia nelle mani della persona che, autodeterminandosi, rompe l'alleanza medico-paziente. Infine, lo sguardo ai sacerdoti, preoccupazione per la formazione del clero e un nonnetto al nomadismo vocazionale, realismo e sofferenza per gli episodi di Brutta Cronaca. La sofferenza c'è, la vergogna ci sta, ma c'è anche l'orgoglio di dire che questi non sono la Chiesa, non rappresentano la Chiesa.